Salve a tutti e ben ritrovati alle video interviste di Radiobombo, come vi abbiamo già anticipato ospitando in studio pochissimi giorni fa il primario del reparto di ginecologia dottor Calavantario e primario facente funzioni del reparto di ematologia dottor Giuseppe Tarantini, tra l'altro gli ultimi due sindaci della nostra città, eccoci di nuovo a parlare di ospedale, questa volta in compagnia partendo dalla nostra sinistra del presidente del consiglio comunale dottor Giuseppe Di Marzio e del rappresentante sindacale aziendale, possiamo definirlo così, Cosimo Nenna. Benvenuti ad entrambi, ovviamente la presenza intanto del presidente del consiglio comunale si lega proprio alla notizia che è di queste ore, che parla di un altro consiglio comunale in arrivo sull'ospedale, questa volta monotematico e questa volta anche con le istituzioni presenti perché è obiettivo della presidenza invitare il governatore regionale, l'assessore regionale della sanità, il direttore generale dell'ASLA-BT. Intanto lunedì conferenza dei capigruppo, lo diciamo registrando queste interviste il sabato, c'è una data di massima presidente per l'assemblea? Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, non appena abbiamo avuto notizia di questa bozza che circola dal piano di riordino sanitario, mi sono preoccupato immediatamente di convocare la conferenza dei capigruppo per lunedì prossimo affinché si possa andare in consiglio comunale con un'unica proposta, il consiglio comunale monotematico sulla sanità cittadina. La proposta è questa, almeno che sottoporrò ai capigruppo. Noi abbiamo il dovere di invitare i responsabili politici, perché questa è tutta una partita politica, non è certamente una partita amministrativa. Abbiamo il dovere di invitare i nostri rappresentanti politici, chiederemo naturalmente la disponibilità, dando un lasso di tempo, penso a 7, massimo 10 giorni, perché loro ci possano dare delle disponibilità di date. Se questo non dovesse accadere lo faremo autonomamente, convocaremo e ho intenzione di convocare sia il presidente della giunta regionale, l'assessore regionale, i parlamentari del territorio che non si possono esimere assolutamente da una decisione così importante come i consiglieri regionali e il presidente della provincia. Tutti i rappresentanti politici del territorio dovranno essere presenti, perché loro si devono assumere la responsabilità di quello che sta accadendo, non solo nella nostra città, ma nella nostra provincia. Mi permette di stuzzicarla, però, Presidente, anche parafrasando proprio quello che lei ha detto nell'ultimo Consiglio Comunale. Quando durante i preliminari si è parlato di ospedale, lei, intervenendo alla fine degli interventi, ha peraltro detto, ma il nostro deliberato forse non l'ha nemmeno letto nessuno. Il direttore generale mi ha semplicemente riferito di averlo letto, ma non analizzato. Allora, le chiedo proprio in maniera cruda, ma i deliberati del Consiglio Comunale hanno ancora un valore? Beh, hanno un valore, dipende da chi li riceve e da chi è intenzionato a leggerli, a prenderli in esame. Sicuramente hanno un valore, perché è l'espressione politica di una città, un deliberato, per cui i rappresentanti politici che sono lì per questo dovrebbero prenderli in esame, perché dovrebbero sicuramente ascoltare qual è il parere dei rappresentanti politici e quindi della città. Io faccio soltanto un riferimento. Alcuni anni fa Fitto ha perso la sua campagna elettorale regionale proprio sul tema della sanità, lo sappiamo tutti, ed è venuto in una estate piuttosto calda nel Consiglio Comunale di Trani a presentare il suo piano. Ora non entro nel merito se sbagliato o esatto, però ha avuto la forza e il coraggio di venire a confrontarsi con la parte politica. Noi questi signori oggi che governano la regione non li vediamo, non li abbiamo mai visti e anche quando noi abbiamo inviato i nostri deliberati o abbiamo chiesto alcuni incontri, a tutti i rappresentanti, compreso anche la Commissione Sanità regionale, siamo stati letteralmente ignorati. Faremo sentire la nostra voce, ma con estrema forza, se questo non dovesse accadere. Diceva il Presidente Di Marzio, non li abbiamo mai visti. In realtà il governatore l'abbiamo visto due volte nel nostro ospedale per inaugurare altrettanti reparti. La rinnovata chirurgia con annessa urologia e il recuperato si pensava allora reparto di ginecologia ed ostetricia. Al di là adesso dei destini di entrambi, però sono stati spesi soldi, tanti soldi, per rimettere a nuovo questi reparti e non solo quelli. Ed è questo il motivo cardine di quello che i sindacati da sempre dicono sulla questione ospedale. Perché andare a trasferire a Bisceglie quello che è già comunque abbastanza ben funzionale qui a Trani? Ma in effetti la nostra denuncia, se hai letto l'articolo, penso di sì perché l'hai pubblicato, la nostra denuncia, CGL Cisleville, è proprio impostata su questo. Non è un discorso campanilistico. Non credo che la Regione ha le idee chiare su come si possa istituire un piano di riordino. Vedi quando? Io vedo solo tagli a destra e a sinistra senza un progetto serio. E nell'intervista, ho apprezzato l'intervista che avete fatto al dottor Tarantini e ad Avantario, nell'intervista il dottor Tarantini diceva io non vedo un progetto serio laddove io posso dire va bene facciamo questo. L'unica cosa seria è che chi ha fatto l'ospedale di Trani ha fatto un blocco chiamato ospedale laddove tu veramente puoi ospitare tutto. Ma al di là di questo l'ospedale di Trani ha una struttura alberghiera dove i servizi sono fatti bene. Quello che a differenza a Biceglie non c'è. Noi abbiamo delle sale operatorie ben efficienti, abbiamo delle strutture, che l'ho denunciato sull'articolo, che sono state messe a norma da poco, e voglio capire il perché da un lato l'assessore dice c'è un piano di rientro che dobbiamo rispettare e dall'altro lato poi consumiamo soldi per mettere su a Biceglie un qualche cosa che possa poi dire a Trani chiudete perché a Biceglie io ho l'ospedale messo su. Non mi risulta che questo ci sia. Hanno bagni fuori dalle stanze, nelle stanze abbiamo stanzette quando queste da due posti letto l'una dove non ti puoi neanche girare. A Trani abbiamo gli spazi idoni per mettere su un ospedale che possa anche abbracciare la stessa città di Biceglie. Questo denunciamo. Io ti dico francamente, se la struttura di Trani stava a Biceglie e quella di Biceglie stava a Trani, io in questo momento non stavo qui, avrei detto va bene, accetto, vado a lavorare a Biceglie. Questo non mi risulta, quindi è assurdo penalizzare la città di Trani, l'ospedale di Trani in una struttura che poi dobbiamo chiudere per forza perché l'accontentino dei 79 posti è l'anticamera a chiudere tutto il resto. Anche se lo stesso Gorgona, i sindacati, ha detto facciamo una stanza di regia dove questi numeri possono essere messi in discussione. Per questo motivo io ribadisco che non c'è progetto. Non puoi pensare di venire tra di noi a discutere questo diamo di più qui, questo diamo di più là. Noi dobbiamo vedere il fabbisogno del territorio nel globale provinciale e decidere se a Trani è giusto tenere l'ospedale e a Biceglie fare una casa la salute visto che l'ultima volta Gorgoni ci disse, e questo mi preoccupa, che nell'auditorio in presenza del Presidente del Consiglio di Trani disse vabbè visto che Trani non vuole questo progetto lo spostiamo a Biceglie o a Canosa. Parliamo della casa della salute. Ma forse qui lui pensa che ci stanno persone che dormono, che a Trani può fare quello che vuole fare. Noi non siamo d'accordo, noi siamo pronti e mi auguro insieme a tutte le forze politiche di desti, sinistri, centri, senza guardare il colore politico, difendere il bene comune della città. Lei ha detto una cosa interessante, presentando l'ospedale come un blocco funzionale nel quale c'è una sequenza logica di servizi che portano alle sale operatorie. Ma questa sequenza logica ha da anni ormai un front office mozzato perché il pronto soccorso, dove proprio lei funziona, è nella sua sede originaria bloccato per lavori che si sono interrotti e non sono mai più ripresi. E la sede provvisoria è talmente provvisoria che è assolutamente insufficiente e forse neanche tanto dignitosa. Lei che ci lavora forse ne può dare atto. Può essere anche e soprattutto questo il motivo per cui poi l'ospedale fa fatica perché quando il front office, appunto il posto in cui per primo forse una persona arriva in ospedale si presenta in queste condizioni. Per questo motivo io condivido quello che il Presidente ha detto poc'anzi, il buon amico Peppino, ci conosciamo da una vita, ha detto poc'anzi, è solo una questione politica. perché me la dice lunga dove il pronto soccorso di Biceglie, dove stanno attualmente, è stato fatto da poco. Stanno rifacendo un altro pronto soccorso nella palazzina a Canto, dove cercheranno di completare quando prima, un altro pronto soccorso perché in questo modo possono dire, ecco perché non si fa a Trani, possono dire il nostro ospedale è completo, ha un pronto soccorso anche così soddisfacente da prendere anche il personale che sta su Trani e quindi mettiamo su questo. Ma quello che voglio denunciare anche, e spero che il Direttore Generale possa ascoltare questa mia, chiudendo Trani, su Biceglie tu hai due strutture ospedaliere, non ci dimentichiamo che la Casa Divina Providenza è una struttura ospedaliera convenzionata dalla Regione, laddove tu hai tutto dentro. Dall'altro lato ti porti anche l'ospedale, ma come si fanno i progetti? Su che criterio hanno deciso di chiudere a Trani e tenere aperte a Biceglie? Loro ci devono spiegare questo. Allora, se ti siedi, come diceva Tarandini, se ti siedi al tavolino per discutere e sentirci le parti si ascoltano per capire come si possa risolvere il problema, è bene. Se poi andate a senso unico, noi non ci stiamo. Io mi auguro che le istituzioni di Trani, in questo momento mi appello al Presidente del Consiglio Comunale, facciamo fronde unico per dire no a determinate cose. Presidente, sembra di capire che oltre che una questione politica, bisogna anche considerare i motivi dell'opportunità di certe scelte, e quindi economicità, efficacia, efficienza. In questo momento come stiamo messi? Perché non è ben chiaro il quadro, soprattutto futuro, e non lo è soprattutto alla luce di queste ipotesi di sede di ospedale unico che in ogni caso però bisogna dare atto. Altri comuni propongono e ancora non si è ben capito, Trani, nonostante l'abbia in qualche modo indicato il Consiglio Comunale, oggettivamente che cosa proponga. Noi abbiamo di fronte a noi una situazione. Noi abbiamo un piano di riordino approvato circa 8-9 mesi fa che non è mai stato smentito, né mai è stato declassato come piano di riordino. Per cui noi dobbiamo partire da quel piano di riordino dove vede un ruolo dell'ospedale di Trani e un ruolo dell'ospedale di Bicelli. Fatto nella economicità questo piano di riordino, perché è chiaro che ci rendiamo conto tutti quanti che stiamo attraversando un periodo particolare e quindi le cose vanno valutate anche sotto l'aspetto economico. Ma io non posso oggi condividere una proposta che viene con tutto il rispetto dal direttore generale da un bocconiano, perché i tagli siamo capaci tutti a farli. Capace lei, i direttori sono capaci io, capaci Cosimo Nen, sono capaci tutti. Mettersi a tavolino e tagliare, aumentare le imposte e tagliare. Allora il discorso del piano di riordino e del discorso della rete ospedaliera va fatto con un criterio, con un criterio che deve essere il criterio che deve andare incontro alle esigenze della popolazione. Allora, partiamo da questo. Innanzitutto io non voglio entrare nella polemica che pure ci sta tutta dell'ospedale di Trani e di Bicelli, perché diventerebbe poi una guerra tra poveri. Io feci una proposta al direttore generale quando fui ricevuto. Dico, cominciamo a parlare di tagli quando avremo posto la prima pietra del nuovo ospedale. Perché questo? Perché noi dobbiamo dare un senso, un segnale ai nostri cittadini. Diciamo, si sta costruendo il nuovo ospedale, oggi ci chiedono dei sacrifici, benissimo, siamo disponibili a fare i sacrifici, perché il nuovo ospedale prevede questo, questo e quest'altro. Cioè, è inimmaginabile che oggi, per esempio, per fare una risonanza magnetica, l'utenza e il cittadino debba aspettare 13-14 mesi. È inimmaginabile che oggi, per poter fare un ecocardiogramma o un ecocolordoppler, il cittadino debba aspettare 7-8 mesi. È chiaro che di fronte alla salute, chiunque si va ad impegnare, anche quello che non ha, per rivolgersi alla struttura privata. Quindi di che casa della salute noi stiamo parlando oggi? Di che cosa vogliamo parlare? Allora il discorso è un altro. Nuovo ospedale. Benissimo, premesso che io sono molto, ma molto diffidente sulla costruzione del nuovo ospedale. Perché il nuovo ospedale, siccome parliamo anche di economia, prevede una serie di costi. Costi che sono notevoli. Per cui ho delle perplessità che il nuovo ospedale possa sorgere in tempi brevi. Ora mi sorge un dubbio. Perché depotenziare un ospedale, che è quello di Trani, in favore di un altro ospedale, che è quello di Bicelli, che poi entrambi dovrebbero essere chiusi per il nuovo ospedale. Ed è quello che dicevamo nella intervista con il dottor Trantini e il dottor Avanti. Non ho avuto il piacere di ascoltare l'intervista e me l'ascolterò. Comunque questo è in linea di massimo. Il Consiglio Comune di Trani una proposta l'ha fatta. E ha fatto la proposta di spostare l'asse verso Andrea Trani-Bicelli. Che possa prevedere anche un eventuale interesse della città di Corato. Perché noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo una direttrice, la strada provinciale che va da Andrea a Bicelli, che attraversa il territorio di Trani ed è vicinissimo sia all'autostrada che alla città di Bicelli. Questo consentirebbe di avere una utenza, una popolazione di oltre 250.000 abitanti. Per cui ci saremmo dentro su tutti i palami. E' già un'ipotesi di un terreno. Ricordiamo che mi pare di far bisogno per realizzare un ospedale dovrebbe essere i 10 ettari. Sì, questo dovrebbe essere l'ipotesi. Ma io non voglio entrare neanche nello specifico. Perché siccome ognuno ha dei retropensieri, potrebbe, se indica una ipotesi di soluzione, potrebbe dire ma tu sei interessato a quel terreno anziché a quell'altro. No. Io invece dissi al direttore generale poiché nessuno di noi deve fare la proposta di un terreno, lei ha tutto il dovere e il diritto di fare un bando pubblico, di chiedere a chi ne ha la possibilità di mettere a disposizione un terreno di queste dimensioni per costruire il nuovo ospedale e naturalmente in questo potremmo anche venire incontro perché i comuni se è sul territorio del comune di Trani o di Andria o di Biceglie potrebbero anche impegnarsi ad adottare le varianti di piano regolatore affinché possa venire questa struttura sanitaria. Quindi ho dato anche, mi sono permesso di dare anche questa disponibilità del Consiglio Comunale che se il nuovo ospedale dovesse ricadere per qualche centinaio di metri nel territorio di Trani il Consiglio Comunale di Trani sono certo che si impegnerà e favorirà questa variante di destinazione urbanistica. Quindi questo è il senso del nuovo ospedale se mai ci dovesse essere non può avere senso un ospedale dirottato verso altra direttrice che è quella della statale 98 extra strada provinciale numero 2 perché vedrebbe scoperta la popolazione di Trani scoperta la popolazione di Biceglie Andria vedrebbe oggi che ha un ospedale al centro della città dirottato il proprio ospedale forse 10 km oltre il proprio centro urbano per cui diventerebbe veramente problematico per il cittadino tranese il cittadino bicegliese ma dico anche quello andriese poter raggiungere in tempi brevi una struttura ospedaliere e noi sappiamo quanto il tempo gioca a favore della salute molto spesso bastano pochi minuti per salvare una vita e noi non ci possiamo permettere questo russo l'ipotesi che sembra più gettonata paparicotta in questo momento è come dicevano i nostri due precedenti interlocutori un'ipotesi che semplicemente trasformerebbe l'ospedale unico di fatto in un ospedale di Andria sotto mentite spoglie allora io mi permetto di dire una cosa e me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo il presidente della provincia ha messo a disposizione il terreno paparicotta che è un terreno della provincia per la costruzione del nuovo ospedale ma con questo non ha detto che il nuovo ospedale deve venire a paparicotta io credo che la conferenza dei sindaci abbia lasciato aperto anche se mai si è espresso ufficialmente l'assessore regionale abbia lasciato aperto questa è un'ipotesi di lavoro ma io credo e mi viene anche in questo momento in mente l'idea siccome so che anche Canosa vuole convocare un consiglio comunale monotematico sulla sanità perché è a rischio anche l'ospedale di Canosa naturalmente io non mi viene in mente l'idea di fare addirittura un consiglio comunale delle due città di Trani e di Canosa poi la sottoporrò naturalmente da monotematico a bilaterale a bilaterale ma monotematico come tema monotematico bilaterale la città di Trani e di Canosa perché in quella occasione riusciremo forse a stanare anche il presidente della provincia che mi sa che non è assolutamente sfavorevole ad un'ipotesi di ospedale unico sulla direttrice Trani Biceglie tra l'altro il presidente della provincia è anche il sindaco di Canosa e questo chiaramente la dice lunga spesso sulle conflittualità anche di carattere istituzionale che poi interessano queste vicende però se si parla di ospedale unico ci viene in mente che questa non è una novità se ne parla da tempo non si ha la sensazione e lo chiedevamo anche in questo caso i nostri due presidenti interlocutori che Trani Biceglie abbiano un po' troppo sonnecchiato su questa vicenda e poi all'improvviso si siano bruscamente risvegliati dal sonno nel momento in cui la regione Puglia ha indicato che gli ospedali unici devono essere due e non più tre ma io personalmente sono sempre stato convinto che l'ospedale di Trani Biceglie non si poteva mai realizzare poi a questo è entrato il discorso del piano di rientro dei debiti a livello nazionale quindi i soldi sono pochi per realizzare l'ospedale di Trani e di Biceglie si sta puntando di fare l'ospedale anche a Trani Biceglie sull'asse anche a Trani Biceglie anche su questo sono d'accordo con Peppino non sono convinto che l'ospedale di Andia Trani Biceglie si possa realizzare quando prima e la storia me ne dà atto l'ospedale di Barretta ha 30 anni non è un ospedale che è nato oggi è stato realizzato 30 anni fa e piano piano poi alla fine grazie al direttore Cannone è stato realizzato tutto il resto per dirti che non è così semplice oggi decidere facciamo l'ospedale su Andia Trani Biceglie sono progetti a lungo termine che a me operatore e cittadino può interessarmi ma devo anche capire fino ad allora come devo portare avanti il mio operato nell'interno di una struttura sulla città di Trani e non mi sembra che la direzione generale riesce a mettere su un piano di riordino che come dicevo poc'anzi soddisfa il fabbisogno del cittadino io sarei stato più contendo che la direzione generale poteva chiamare i vari in questo caso e anche tecnico il nostro il nostro sindaco Giuseppe Tarantini e dire scusate ho necessità di dare ad ogni struttura una sua fisionomia quello che non c'è per esempio io come diceva Peppino non dobbiamo fare la guerra dei poveretti né tanto meno voglio che Bicelli venga screditata a differenza di Trani e così via però alle due strutture diamo l'opportunità di capire cosa si possa fare di più su Bicelli e cosa si può fare di più su Trani su questo io mi voglio confrontare su questo io voglio che si vada avanti perché se alla fine la direzione generale per un discorso politico perché devono ridurre perché vogliono fare quello che vogliono a sto punto chiederò e sollecio in questo caso il presidente del consiglio comunale di Trani a far sì che vengano degli ispettori dal ministero della sanità della salute per capire se in effetti è da riconvertire l'ospedale di Trani o quello di Bicelli di Trani di Trani